Grande attesa per Pescara Napoli, ci sarà il tutto esaurito allo stadio adriatico. Assessore Diodati, uno stadio adriatico pronto e che potrà accogliere nelle migliori dei modi questa grande sfida di campionato? Sì, uno stadio adriatico rimesso a lucido. Diciamo che i lavori, così come avevamo previsto, si stanno concludendo tutti quanti nei tempi che avevamo inizialmente previsto. Abbiamo ancora qualche piccola cosa che dobbiamo fare, però si tratta di togliere il vetro di fronte alla tribuna VIP che verrà tolto però dopo la partita con il Napoli perché non faremo in tempo a farlo ora perché la ditta specializzata in questo momento qui è chiusa e quindi lo faremo per la prossima partita. Da sistemare queste ultime zone del campo che nella partita col Frosinone sembravano un po' rovinate in realtà e la rizzollatura del campo comporta tutta una serie di situazioni particolari ma io ho fatto un sopralluogo ieri mattina allo stadio adriatico, la situazione è molto migliorata io credo che per la partita con il Napoli anche il campo sarà in perfette condizioni. Quindi sarà una grande giornata di sport, Assessore Stadio Adriatico tra l'altro che la settimana successiva non è ancora ufficiale ma quasi certo ospiterà anche la gara di campionato valida per la seconda giornata a Crotone Genoa. Sì, noi non abbiamo ancora ricevuto l'ufficialità dal Crotone Calcio però insomma noi come voi leggiamo le notizie sui giornali e sembra che insomma sicuramente a Crotone non faranno in tempo a sistemare lo stadio per la prima partita di campionato per cui noi attendiamo anche il Crotone che viene a giocare qui a Pescara io penso che possa essere un'occasione per gli sportivi abruzzesi per vedere un'altra partita di Serie A. Grazie. 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 Grazie.